Del pappa Di Modugno, Galeazzi, Giavara, Cattello, Sifo, San, Zarello, Brucelli contatto a due rider sulla prima linea mettendo viene fuori l'atleta del team Mesnate con il numero 120 Di Modugno Deni e lui che si incarica di andare al progetto in prima posizione e intanto il primo atleta scinvolato con il numero 205 atleta del Longiate, il suo nome Muccelli, Tommaso